Furto con una spaccata nella notte a Montevarchi, una banda infatti ha sfondato la vetrata d'accesso alla centro commerciale di Via dell'Oleandro, questa alle mie spalle, ha poi portato via la colonnina della Bancomatta ed infine si è data alla fuga. Era circa l'una quando la banda di malviventi ha fatto irruzione. I ladri, un gruppo di almeno 5-6 persone, dopo aver sfondato con un SUV la vetrata di accesso al corridoio centrale del centro commerciale, ha portato via la colonnina del Bancomatta installata vicino all'entrata. La banda, per mettere a segno il colpo, ha utilizzato almeno tre veicoli, tra cui un furgone ed un'auto che è stata lasciata sul posto e che risulta essere stata rubata a Montevarchi. Io non ho sentito nulla, la mia figlia gli ho detto che tornava dall'ospedale, c'era i carabinieri qui, poi è andata su e ha detto che ha visto poi andare via di corsa le macchine. Il bottino ancora non è stato quantificato, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno e del nucleo investigativo del comando provinciale di Arezzo. È già la seconda volta nel giro di qualche anno che viene preso di mira il Bancomatta del centro commerciale di Via dell'Oleandro.